Jordan Hamilton, una partita all'ultimo respiro, una vittoria davvero pazzesca. E abbiamo anche ragazzi che hanno lasciato il team, quindi siamo in un po' di struggle, ma un vinto come questo può aiutare a uscire. Venezia è una squadra fortissima, il coach ci ha fatto un ottimo lavoro. Nello spogliatoio ci siamo detti che dobbiamo lottare. Abbiamo perso alcuni giocatori, perché sono usciti dalla squadra, altri sono infortunati, però ce l'abbiamo messa. Jordan, una vittoria che è arrivata da una difesa molto alta, aggressiva. Avete subito il protettore di Pallari Venezia. Siete riusciti poi a partire in transizione? Uh, just the fans, right? The fans were great tonight, you know. It looks like everybody, there was no seats left, and everybody was there to support us, even though we haven't been playing well. And we just have to come out every day and bring that same energy, whether we're playing at home or whether we're playing away. And the defense was great. The defense was great tonight. Jared got some steals, David Moss did a great job. And we just gotta continue to fight like we did today. You know, rather if we have guys that are hurt or guys that are not here anymore, we still just gotta come out every day and play with our hearts. So we'll see you guys.